Ciao a tutti gli amici di itelfino.net, parliamo di smartphone. Adif Acer ha deciso di proporre una nuova linea di fascia entry e mainstream, innanzitutto puntando su un design che sia comune su tutti e tre i prodotti che abbiamo lanciato, quindi degli elementi premium come una finitura cromata sul lato o una zigrinatura sulla back cover che consente quindi di avere una presa più salda. Ovviamente le caratteristiche sono quelle che richiede il mercato, quindi una risoluzione HD nel caso del 5 e del 5 pollici e mezzo, un processore quad core e ovviamente molto focus c'è sulla parte media, quindi la possibilità di fare foto e quindi nel caso del 5 e del 5 pollici e mezzo abbiamo una camera sia frontale che posteriore da 8 megapixel. E inoltre abbiamo deciso di personalizzare la UI con delle feature che rendono molto semplice l'utilizzo e anche di poter customizzare alcune funzioni, quindi la possibilità in real time di visualizzare come potrebbe venire una foto col formato seppia o in bianco e nero. Oppure alcuni settaggi definiti come, c'è molta attenzione sull'aspetto culinario, quindi sarebbe interessante poter postare i propri piatti, abbiamo una modalità specifica che si chiama gourmet, che attraverso un settaggio particolare di saturazione e contrasto rende il piatto ancora più invitante. Oppure molta attenzione viene dato ai nostri figli, quindi abbiamo deciso di realizzare, di integrare un'applicazione che si chiama Kit Center, che non è soltanto una UI definita, più specifica per i ragazzi, ma consente anche di preimpostare e di preconfigurare dei canali video, piuttosto che dell'applicazione, dei siti web che sono specifici per i ragazzi. E oltretutto possiamo anche definire profili diversi in base anche all'età dei nostri figli, perché è possibile implementare più profili. Un tool che ovviamente può essere protetto con un pin in modo tale che possiamo lasciare il prodotto in tutta sicurezza ai nostri figli. Per l'utente più esigente poi abbiamo il nostro prodotto di fascia più alta, di 5 pollici e mezzo, che integra al suo interno, oltre 2 giga di RAM, 4.000 mAh di batteria e che consente quindi di poterlo utilizzare per due giorni pieni di lavoro. Per quanto riguarda l'offerta, quindi abbiamo deciso di spaziare, quindi coprendo una fascia che va dai 129 euro del prodotto da 4 pollici e mezzo, di cui esiste anche la versione Windows, la serie 330, ai 149 euro del modello da 5 pollici, fino ai 199 euro del phablet, o dello smartphone un po' più grosso, da 5 pollici e mezzo, lo Z630. La disponibilità all'Italia? Cominceremo a spedire il 5 pollici e mezzo e il 4 pollici e mezzo a partire da settembre, mentre bisognerà aspettare il prossimo mese per il modello da 5 pollici. Grazie.